Che succede se non possiamo... Ah, beh, se non possiamo, allora... Che razza di risposta è? Perché? È nervoso, signor Holden? Eh, sì. Mi dica un po', perché è entrato in marina? Perché mi serviva la divisa da ufficiale. Da ragazzo ero vittima di una propaganda tendenziosa. Mi dicevano che il denaro non è tutto e io me la bevevo. Poi scoprì che quelli che affermavano che il denaro non è tutto erano quelli che ne erano pieni e che dicevano così per non farsi fregare quello loro. La prego, si secca? Sì. Ci sono due semplici strade per avere i soldi. O li rubi o te li sposi. Se uno ha intenzione di sposarli, deve frequentare gli ambienti adatti, la gente altolocata. Due cose le osso date. Primo, una divisa può introdurre nei migliori ambienti. Secondo, in una camera da letto nessuno indagherà mai sul tuo conto in banca. Con questa idea vincerà qualsiasi partita. Vuol vedere il Montepremi? Sarebbe questa la ragazza altolocata? Altolocata? Lo può dir forte. Possiede sette grattacieli, oltre a tre o a quattro banche. Non è adorabile? Avevo appuntamento una sera, arrivai un po' in ritardo e non volle che la cosa si ripetesse e così... Ha mai visto un orologio da duemila dollari? Per la miseria. Allora quando il prete dirà vuole prendere questa donna, non lo dirà per scherzo, vero? A quando egli è tevento? Appena torniamo. Faccia in modo che ritorni e le regalerò un sommergibile privato. Oh, per amore del cielo.